Capisco che Can sia un ragazzo molto bello, ma è possibile che tutti questi giornalisti parlino solo delle cosiddette storie d'amore. Penso che non si debba interferire nella vita privata, che si tratti di un attore o di una persona normale. Poi ci sono i soliti litigi quotidiani perché sta con di me, a parte la presunta relazione con Francesca, parlano sempre della Leotta, anche se è diventata mamma. Se ricordo bene, Can mi direbbe che se un giorno si innamorasse, spero che trovi una brava ragazza. È una mia idea. Privacy della vita privata, la copertura costante della vita privata di personaggi famosi come Caniaman da parte dei media è una situazione che mette a disagio molte persone. Pensi che la loro privacy debba essere rispettata e questo è un approccio molto comprensivo. Storie d'amore, reagisci ai media che parlano costantemente delle relazioni romantiche delle celebrità. Sembra che tu abbia paura che le continue speculazioni sulla vita amorosa delle celebrità possano rendere loro difficile vivere una vita privata normale. Varie relazioni, hai menzionato il fatto che Caniaman sia associato a donne diverse. Capisci che tali speculazioni potrebbero non riflettere la realtà e pensi che sia ingiusto speculare invece di apprendere i fatti. Desideri futuri, anche se desideri che la vita privata di Caniaman non venga interferita, speri che trovi una buona relazione e sia felice. Questo sembra un'indicazione che sei un suo fan e vuoi che sia felice. Separazione tra vita privata e vita lavorativa, l'interferenza nella vita privata delle celebrità può talvolta influire negativamente sul loro lavoro e sulla loro carriera. Tali speculazioni e notizie possono rendere difficile per una persona concentrarsi sul proprio lavoro e complicare ulteriormente la propria vita personale. Responsabilità dei media, sembri credere che i media dovrebbero essere più attenti e responsabili nel coprire la vita privata delle celebrità. Diffondere le cosiddette notizie invece dei fatti può forviare il pubblico e potenzialmente danneggiare la reputazione delle celebrità. Dichiarazione d'amore, hai affermato che Caniaman un giorno dovrebbe dichiarare di essere innamorato. Questo parla della tua curiosità riguardo alla sua vita emotiva e pensi che una simile affermazione sarebbe un passo positivo per i suoi fan. La carriera di Caniaman, le notizie sulla vita privata di un particolare attore possono influenzare la sua carriera. Hai affermato che desideri che un attore come Caniaman trovi più lavoro e che la sua carriera cresca. Ruolo e responsabilità dei media, è importante valutare il ruolo e la responsabilità dei media nell'interferire con la vita privata delle celebrità. Pensi che i media abbiano la responsabilità di verificare attentamente le notizie ed evitare speculazioni. Diritti delle donne, un aspetto di questo tipo di notizie è che le donne famose sono spesso associate ai loro colleghi maschi e di queste relazioni si parla riguardo alla loro vita privata. A questo punto, tu sottolinei che la carriera e il successo delle donne dovrebbero essere giudicati in base al loro talento e al loro lavoro, non solo in base alle loro relazioni sentimentali. Ammirazione ed empatia, anche se sostieni Caniaman come fan, mostri anche empatia nei confronti della sua vita privata. Sottolinei che molte persone come lui potrebbero affrontare difficoltà emotive simili e quindi la sua privacy dovrebbe essere rispettata. Bisogni della società, pensi che i mezzi di informazione dovrebbero concentrarsi sui bisogni reali della società. È preoccupante quando la copertura costante delle vite amorose delle celebrità interferisce con la conversazione su questioni sociali e questioni più importanti. Celebrità e persone normali, è importante sottolineare che anche le celebrità come Caniaman sono persone normali. Esiste il diritto ad essere informati sui media e su tutto ciò che riguarda il pubblico, ma è importante che la privacy delle persone sia rispettata quando si condividono queste informazioni. Il mondo degli affari delle celebrità, il fatto che la vita privata delle celebrità sia costantemente all'ordine del giorno può mettere in ombra il loro successo e il loro talento nel mondo degli affari. Credi che concentrarsi sul lavoro e sui risultati artistici di una persona debba avere la precedenza sulla sua vita personale. Educazione e consapevolezza sui media, credi che la società abbia bisogno di ricevere maggiore educazione e consapevolezza su come funzionano i media. Quando le persone comprendono meglio come i media elaborano notizie e informazioni, possono diventare consumatori più informati. Importanza della privacy personale, la privacy della vita privata è considerata un diritto legalmente protetto in molti paesi. Anche le celebrità hanno questo diritti e pensi che i media dovrebbero trattarli con rispetto. Percezione delle celebrità come modelli, molte persone concordano sul fatto che le celebrità sono viste come modelli nella società e quindi hanno una grande influenza sul loro comportamento e valori. Pertanto, i media che mettono in risalto le caratteristiche positive delle celebrità e si concentrano sul loro comportamento positivo possono aumentare positivamente il loro impatto sociale. Protezione della vita privata dall'interesse pubblico, intervenire nella vita privata di celebrità come cani aman può significare la violazione dei confini personali. La tutela della privacy dall'esposizione all'attenzione pubblica è un diritto umano fondamentale per molte persone. Richieste del pubblico e responsabilità dei media, i media possono voler soddisfare le richieste del pubblico, ma hanno anche delle responsabilità nei confronti della società. Ha la responsabilità di fornire notizie basate sui fatti ed equilibrate, evitando speculazioni e rispettando la privacy. Media e cambiamento culturale, i media possono influenzare norme e valori sociali. Pertanto, quando i media presentano esempi negativi della vita privata delle celebrità, ciò può avere un impatto negativo sulle generazioni più giovani. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!